buongiorno a tutti da valerio villa e da metropolis immobiliare è con piacere che vi do il benvenuto in questo nuovo video oggi vi accompagno nel cuore di paradiso di lugano paradiso siamo a cinque minuti da tutti i principali servizi che abbiamo ovviamente a portata di mano siamo in zona pianeggiante vicini alla denner vicine alla posta le banche i market i negozi all'imbocco autostradale di lugano sud che si trova proprio qui a pochissimi minuti quindi anche per quanto riguarda l'accessibilità è un oggetto veramente unico come vedete è inserito in uno stabile questo appartamento che andremo a vedere di ultima generazione uno stabile edificato nel 2013 con queste facciate stupende in oro quindi abbiamo anche uno standard di finiture veramente elevato è un appartamento quello che andremo a visitare 4 e mezzo locali convertibile in 5 e mezzo locali una superficie di circa 180 metri quadrati e abbiamo in dotazione anche due posteggi nell'autorimessa una bella cantina e quindi la lavanderia anche privata e quindi un oggetto con tutte le caratteristiche proprio di un immobile di ultima generazione per coloro che amano le zone centrali e comode a tutti i servizi prima di entrare e ovviamente osservando dall'esterno questa bellissima facciata e questo stabile davvero di ultima generazione io vi ricordo di iscrivervi al nostro canale youtube per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità relative agli immobili di metropolis adesso seguitemi che andiamo al quinto piano con l'ascensore per iniziare la visita venite con me ed eccoci arrivati al quinto piano con un comodissimo ascensore siamo in uno stabile veramente meraviglioso del 2013 come avete visto con queste stupende facciate dorate quindi un palazzo davvero di alto profilo adesso vi accompagno passando dal corridoio dove ovviamente abbiamo l'accesso alle camere che poi vi mostrerò alla zona giorno quindi alla zona living che come vedete una zona soggiorno veramente ampia luminosa siamo proprio nel cuore di paradiso a pochi passi da tutti i principali servizi soprattutto in zona pianeggiante questo è un fattore davvero molto importante abbiamo l'autosilo di paradiso a pochi passi quindi anche eventualmente se si volessero ospitare persone abbiamo una comodità e ovviamente una vicinanza anche all'imbocco autostradale ai negozi alle banche è un oggetto ideale per chi ama la centralità e la comodità e in pochi minuti possiamo arrivare anche ovviamente in centro a lugano e sul lungo lago con delle bellissime passeggiate e in questa zona soggiorno come vedete abbiamo un angolo divani tv enorme dove eventualmente essendoci tantissimo spazio come vedete è possibile realizzare eventualmente una quarta camera rendendo così la configurazione 5 e mezzo locali abbiamo sull'altro lato della zona giorno un'ampia area con lo spazio per un grandissimo tavolo da pranzo per ospitare ovviamente anche tantissime persone e anche delle grandi cene con amici quindi sicuramente uno spazio ideale per coloro che cercano ampie metrature e ovviamente per completare la zona living abbiamo una cucina che è a vista ma allo stesso tempo è riservata rispetto alla zona soggiorno una cucina con isola centrale come potete vedere davvero moderna super accessoriata come dicevo appunto con quest'isola centrale con il lavabo un grande piano di lavoro quindi veramente la cucina ideale per chi ama cucinare e quindi trascorrere tanto tempo appunto davanti ai fornelli e quindi organizzare anche delle belle cene come dicevo adesso vi accompagno nella zona relativa all'area notte per visitare le camere da letto e quindi completare poi la visita di questo stupendo appartamento a paradiso venite con me bene proseguendo quindi nella visita di questo stupendo appartamento arriviamo nuovamente nel corridoio dal quale siamo partiti con la visita e abbiamo su questo lato una camera singola ovviamente abbiamo due camere singole quindi speculari e entrambe sono interconnesse quindi è possibile eventualmente appunto accedere da una all'altra con una porta che le connette tra di loro e abbiamo anche un bagno accessibile da entrambe le camere quindi sempre all'interno di questo spazio poi proseguendo sempre dal corridoio abbiamo ovviamente su questo lato appunto la seconda camera singola mentre su quest'altro lato abbiamo la grande master che è una camera matrimoniale bellissima come vedete con il suo bagno padronale finestrato quindi un bagno grande con vasca ovviamente l'appartamento è rifinito con materiali di alto standing ed è veramente molto moderno e sempre su questo corridoio abbiamo ancora un altro bagno quindi un wc ospiti e la colonna lava asciuga quindi all'interno dell'appartamento quindi sicuramente tutte le dotazioni desiderabili da un immobile di ultima generazione in uno stabile decisamente molto moderno e centrale adesso seguitemi che vi riaccompagno nella zona living così da poterla ammirare ancora per qualche minuto e quindi darvi tutti i dettagli di questo appartamento e quindi anche gli elementi per poterci contattare per richiedere eventualmente maggiori informazioni e una visita venite con me ed eccoci tornati nella ampia zona living dopo aver visto questa accogliente zona notte con tutte le dotazioni ricapitolando ci troviamo nel centro di paradiso siamo a pochi minuti dalla stazione ferroviaria dall'autostrada dall'imbocco di lugano sud da tutti i principali servizi in zona completamente pianeggiante e ribadisco questo concetto perché è veramente fondamentale per questa proprietà è un palazzo meraviglioso di ultima generazione edificato nel 2013 e come avete visto rifinito veramente con dei materiali di alto standing abbiamo un comodissimo ascensore l'appartamento che abbiamo visto è un appartamento di circa 180 metri quadrati strutturato veramente molto bene con grandi spazi e un 4 e mezzo locali che però può essere convertito anche in un 5 e mezzo qualora vi servisse questa configurazione perché come avete visto abbiamo un area living talmente grande che è possibile al suo interno realizzare eventualmente una quarta camera da letto abbiamo ovviamente tutti gli spazi organizzati la colonna lavasciuga scusate abbiamo in autorimessa due posteggi di proprietà una bella cantina e quindi è l'oggetto ideale per coloro che cercano la centralità si può raggiungere anche la città di lugano il centro in pochi minuti a piedi con una meravigliosa passeggiata sul lago che è proprio qui a due passi quindi siamo davvero in una zona ideale anche per coloro che hanno una bella famiglia con bambini perché lo spazio veramente consente una abitabilità ideale di questo di questo appartamento siamo al quinto piano quindi abbiamo anche una situazione piacevole in termini di vista e in termini di posizione e luminosità e quindi è veramente un oggetto che possiamo definire di alto profilo nella descrizione del video arriveranno nei prossimi giorni tutti i dettagli relativi a questa bellissima proprietà e quindi una descrizione completa ma nel frattempo se foste interessati a maggiori informazioni o eventualmente a una visita poiché avendo visto il video ritenete che questo è l'oggetto ideale per voi con tutte le caratteristiche che state cercando potrete contattarci tramite il numero di telefono che vedete qui sotto o il sito metropolis immobiliare punto com e saremo lieti di mettervi in contatto con il nostro consulente che si occupa di questa proprietà al fine di poter organizzare una visita prima di salutarvi io vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale youtube e di attivare le notifiche con la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità relative agli immobili di metropolis in tempo reale e vi ricordo anche che se avete un immobile da vendere o desiderate valutare la vostra proprietà quindi un valore di mercato attuale tramite un professionista di metropolis non esitate a compilare il link che trovate sempre qui sotto in descrizione insieme a tutti i dettagli di questa bellissima proprietà così da potervi fornire questo servizio e mettervi in contatto con un nostro consulente che nell'arco di 24 ore vi contatterà e potrà darvi una valutazione del vostro oggetto gratuitamente e senza nessun impegno e ovviamente siamo a vostra disposizione anche qualora foste interessati a poter mettere in vendita la vostra proprietà sul mercato e quindi avvalervi del servizio di metropolis che si occupa di tutte le fasi della compravendita e ha un'esperienza di oltre dieci anni e un team competente che vi può seguire in tutte le fasi senza ovviamente sorprese e con grande professionalità io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi nella visita di questo grande 4 e mezzo locali convertibile in 5 e mezzo locali a Lugano Paradiso in una posizione pianeggiante e centrale vi auguro una meravigliosa giornata e ci vediamo al prossimo video